Ciao popolo blu cerchiato! Ma ragazzi, è legale ciò che è successo a Parma? Io ero uno di quelli che... Ma sì, cosa vuoi che facciano? Giocano per pareggiare. Le squadre gemellate, tutti e due pareggio comunque salva il 99%, cosa vuoi che... che se la giochino? Soprattutto la Samp che tra tre giorni ha il derby, cosa vuoi che giochino? Ma stai tranquillo che pareggiano. 1-0 per il Parma. Va bene, tutto è normale, tanto poi pareggiamo e finiamo tutti così. Tra l'altro, mi sento anche tanto di dare la colpa a Daudiero perché, insomma, un'ultima botta del genere di Gervinio è molto difficile da parare. Poi Kuluzaschi la mette in mezzo all'autogol di Berzinski e ha detto, vabbè, dai, su 2-0, su! Adesso tanto facciamo i due gol. Fatto l'1-2 ha detto, anche adesso andiamo a pareggiare. Pareggiato ha detto, boh, adesso... classico, si smette di giocare. Al 3-2... Ma che cazzo... No, 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 c'è qualcosa che non va. Ragazzi, adesso, lasciamo stare un attimo a questa partita. 5 vittorie in 6 partite, ragazzi. Terza partita di fila che Bonazzoli va a segno, segnando 4 gol. Adesso, rendiamoci un attimo conto di una cosa. Se andiamo avanti così. L'anno prossimo vinciamo uno scudetto. Ragnieri fa di nuovo quello che ha fatto con Leicester. Bonazzoli è il nuovo Vardy, ragazzi. Qui lo dico, qui... Ed è scritto, è scritto nel destino, è deciso. Bonazzoli è il nuovo Jamie Vardy. È così, punto. È il nostro Jamie Vardy, dobbiamo blindarlo con le catene, guai che ce lo porta via, neanche per 50 milioni. Oddio. Magari facciamo... No. Bonazzoli deve rimanere da noi. Ma ragazzi, ma anche Quagliarella... La nonchalance con la quale Quagliarella ha fatto quel pallonetto. Ma io non capisco come abbia potuto Ragnieri semplicemente fare queste cose. Va bene che con il lockdown comunque c'è stata una bella pausa, quindi ha avuto proprio anche tanto tempo per organizzare un po' tutto da capo. Però, ragazzi, l'anno prossimo, a settembre, quando ricomincia il campionato, vi prego, vi prego, continuiamo così. Perché se, disgraziatamente, noi a settembre ricominciamo come abbiamo finito, almeno per ora, quest'anno, cioè, un posto in Europa League non ce lo toglie nessuno. Perché, dati alla mano, va bene, l'unica partita che abbiamo scazzato è stata quella contro Bologna. Poi, vabbè, contro l'Inter e la Roma, ti è andata male, ma hai perso comunque 2-1, te la sei giocata con due squadre che erano una spanna sopra di te, e poi hai perso 2-0, ma, ripeto, con l'Atalanta, che è anche quella, fai anche due spanna e magari una e mezza, insomma. Ragazzi, stiamo facendo un calcio straordinario. Oggi l'abbiamo fatto nel secondo tempo, perché abbiamo visto due tempi, due squadre diverse. È entrato Marroni e ha cambiato la partita. Rory finalmente si è visto in campo, si è visto comunque, ha fatto assist, ha fatto delle belle giocate, si è proposto molto. Meno male, meno male. Sarà difficile riscattarlo, perché comunque ci vogliono 15-20 milioni, e quest'anno saranno molto difficili da trovare. Però, ad ogni modo, grande Samp, continuiamo così perché stiamo andando alla grande. Stiamo andando alla grande e dobbiamo continuare così. Rendiamoci conto di una cosa, come ho detto precedentemente in un video, qualche settimana fa. Prendiamo la rosa dell'anno scorso, togliamo qualche elemento fondamentale, e vediamo quello che stiamo facendo adesso. Cioè, abbiamo venduto Prat e Andersen e non abbiamo preso dei sostituti adeguati. Abbiamo preso altri giocatori di livello inferiore. Stiamo comunque facendo in questa seconda metà della stagione qualcosa di pazzesco. Che avessimo fatto l'anno scorso, così, con quei giocatori, il posto in Europa League non ce lo toglieva nessuno, soprattutto con quello straordinario in Cagliarella. Io veramente non ho più parole. Tanta grinta, tanto cuore, tanto carattere, e va benissimo così. Continuiamo, continuiamo, perché tra te giorni abbiamo la partita più importante dell'anno. Abbiamo il derby. Il derby può sancire l'aritmetica salvezza di una nata che sembrava disastrosa. Buttata nel cesso dopo solo sette giornate, avevamo tre punti, una vittoria e sei sconfitte. Con in panchina uno degli allenatori italiani più promettenti del panorama mondiale. A me, per carità, sono il primo a dire di Francesco non vedevo l'ora che venisse la Samp. Mi è dispiaciuto quando è andato via, ma Ragneri l'ho preferito fin da subito, perché è uno di esperienza. Se c'è uno che ci può salvare è proprio Ragneri. E i risultati si vedono. I risultati si vedono. Io spero l'anno prossimo che si ripeta la favola dell'Ester con la Samp. Ma ricordatevi una cosa, che noi non faremo mai la cafonata che hanno fatto quelli dell'Ester a mandare via Ragneri, perché non gli ha fatto passare gli ottavi di finale di Champions League. Ma va che gay, va. Teniamoci stretto a Ragneri, perché ragazzi, guardate che cosa ha fatto con quali giocatori. Chapeau a Ragneri, perché è veramente immenso. Immenso Claudio e Ragneri, bravissimi tutti, però oggi quelli della Samp che hanno avuto tanta grinta, tanto cuore, tanto carattere. È così che si vince. Così. Bravi ragazzi, mi raccomando, nel derby giocate 90 minuti come avete giocato a secondo tempo. Sempre e comunque, forza Samp. Ciao. Ciao. Grazie.